Il Comune di Silvia ha lavoro per cercare e trovare una soluzione alla difficile situazione delle casse comunali, una condizione ulteriormente aggravata dopo il resoconto presentato dai Revisori dei Conti, che secondo i calcoli le somme da accantonare per il fondo relativo ai crediti non esigibili di gran lunga superiore a quello calcolato dal Comune, per cui il disavanzo passerebbe dai 2.700.000 euro circa, indicati nel bilancio, ad oltre 7 milioni di euro. Noi dal giorno in cui ci siamo insediati abbiamo sempre detto che il Comune di Silvia aveva delle problematiche relative ai flussi di casa e del bilancio e a distanza di alcuni mesi siamo venuti a conoscenza della situazione che era più grave di quella addirittura prevista. Naturalmente la questione viene da lontano perché qui dobbiamo fare riferimento almeno agli anni 2015, 2016, 2017 e dunque praticamente portarli a quelli del 2018, cui noi abbiamo amministrato, ricordo, per solo 5 mesi del 2018, dunque una situazione sicuramente paradossale, cui ci ritroviamo a dover affrontare. Questa amministrazione, questa maggioranza sicuramente sta tentando tutte le soluzioni per prevenire qualsiasi problematica che sia focalizzata al distesso dell'ente. Stiamo cercando soluzioni, vogliamo sicuramente risanare quest'ente, il nostro obiettivo è quello di poter far ripartire questa città naturalmente prima appianando il disavanzo che abbiamo trovato. Una situazione molto delicata che potrebbe anche compromettere la questione degli asfalti? Ma sicuramente quando c'è un disavanzo così importante ingessa un pochino lente nelle manovre che vuole portare avanti. Sicuramente noi siamo consapevoli, siamo coscienzosi di come operare. Questa però non può essere una situazione strumentale, perché come ripeto, 5 mesi di amministrazione del 2018 non può portare un'amministrazione a dire che il disavanzo è stato creato da noi. Sicuramente è stato creato dai predecessori. Ma paradossale è il fatto che nel 2015 il governo aveva dato la possibilità ai comuni di spalmare l'intero debito in muti per 30 anni e il Comune di Silvi non ha applicato questa possibilità. Dunque diciamo che è veramente paradossale perché chi sbraita tanto è uno degli artefici di quelli che praticamente non hanno dato la possibilità a questo comune di ripartire veramente in una maniera diversa. Grazie a tutti